Ma buongiorno a tutti, come vi stavo raccontando nell'ultimo video è successo qualcosa al mio motocoltivatore infatti ve lo dico subito, il mio motocoltivatore mi ha abbandonato, si è distrutto ma ora vi vado a spiegare tutto cosa è successo, com'è successo e un po' di novità che arriveranno molto presto intanto qui dietro potete vedere già un accenno di lavorazioni dell'orto, non vedrete niente o forse quando vado a lavorare di qua vedrete qualcosa con il nuovo mezzo, ma quindi cosa è successo a questo povero motocoltivatore bene, ora vi vado a spiegare tutto ma prima di cominciare, perché è molto importante, anche perché non vorrei che ti peri tutti gli altri video che arriveranno dopo ti consiglio di iscriverti, attivare la campellina e lasciare anche un bel pollicione in su quindi non ti rubo altro tempo e possiamo continuare ah e mi raccomando guarda tutto il video fino alla fine in modo che puoi capire tutta la mia disavventura con questo povero motocoltivatore vi avevo chiesto anche nello scorso video, se ve lo siete persi vi ricordo sempre di andarlo a vedere prima guardate quello, dopo tornate a guardare questo in modo da riuscire a capire tutto vi avevo chiesto di scrivere sotto i commenti se avete capito cosa era successo e alcuni di voi ce l'hanno fatta ma quindi ora ti vado a spiegare proprio cosa è successo nel dettaglio tutto è partito, ho cominciato a portare la casa a legna come avete potuto vedere da quel video comincio a portarla a casa a legna, ho fatto in circa 3 o 4 cassoni pieni di legna finché sono arrivato all'ultimo dal primo cassone all'ultimo voi potete capire che oltre al rumore del motore che alcuni di voi hanno detto che ha dei problemi, ma quel motore là è in perfette condizioni l'unico problema era che il rumore della trasmissione, della frizione, del cambio quindi tutta la parte rossa, quella che fa muovere le ruote, la fresa aveva dei problemi e il suo rumore andava a coprire quello del motore il motore è veramente in perfette condizioni, infatti sono riuscito anche già a venderlo perché è come nuovo se ha 50, 60, massimo 80 ore di utilizzo è già tanto per portare a casa tutta la legna del campo avevo montato anche le gabbie per il problema che c'erano delle grandi buche provocate dalla mititrabia perché quando è venuto era troppo bagnato e ha fatto dei solchi veramente molto profondi e sarebbe sorto un problema caricando 200-300 kg sul carrello e avendo delle ruote molto piccole rispetto al motocoltivatore queste ruote non sarebbero riuscite a sorpassare questi scalini, questi buchi si sarebbe impiantato e l'avrei dovuto spingere io per farlo andare avanti ma quindi cosa è successo a questo povero motocoltivatore? cosa è successo? cosa si è rotto? scusate anche il gallo ma non so più cosa farci il rumore che si sentiva della trasmissione era un rumore veramente molto vecchio infatti credo che da quando sono nato lo faceva già ovviamente con l'avanzare del tempo è sempre più aumentato infatti da quel video là come vi stavo anche dicendo in quel video potete sentire che dall'inizio alla fine il rumore aumenta veramente di tantissimo e quello là sarà anche il problema di tutta la rottura della trasmissione sono arrivato con l'ultimo carico come avete visto dal video sono arrivato al punto di scarico dove dovevo scaricare tutta la legna spengo il motocoltivatore scarico tutta la legna anche perché era veramente tanta quindi non serviva a tenere acceso il motore essendo che consuma abbastanza e quindi risparmiare benzina è sempre molto meglio finisco di scaricare tutta la legna riaccendo il motocoltivatore il primo colpo parte come sempre in quel punto in fondo che ha fatto fatica a partire il problema è che era in riserva stava finendo e anche per quello che lo spegnevo sempre dopo aver riacceso il motocoltivatore prendo esco dal punto di scarico vado a rimetterlo via in garage in modo da metterlo via e dopo il giorno dopo sarebbe riservito per portare a casa tutta la legna che era vicino alla strada in quel preciso momento che stavo uscendo dal cancello mio nono mi dice guarda che la fresa gira una cosa molto pericolosa che di solito è sempre tenuta con una fascetta in modo che non si molla è vero c'è anche una sicura ma magari qualche volta può anche capitare che si stacchi in quel momento là ho pensato subito che si era rotto un cavo quindi ho provato a mollarla e a riattaccarla però se era proprio bloccata la maniglia non si muoveva più da lì vado per mettere la folle non si muove neanche più la folle ovviamente tirando la frizione prendo tiro 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 magari se non so se è bloccata rimollo la frizione va avanti un altro po' riprovo in quello là va dentro la folle ed è stata la sua fine perché da là non siamo più riusciti a mettere la prima e la seconda e la retro la fresa era pericolosissima perché andava sempre anche se era in folle continuava a girare ma cosa è successo in parole poveri tutti i dischi del cambio della trasmissione si sono cominciati a mangiare si sono tutti distrutti infatti tutto l'olio che sta uscendo e che vi farò anche vedere in questo video si è tolto anche il cuscino di trasfera che tiene in battuta il cardano per far dopo dare il moto alla fresa infatti c'era il cardano che faceva così cosa che va a distruggere tutta la fresa ma in quello là sono stato molto svelto a toglierla subito in quello che vado a togliere la fresa è uscito tutto l'olio della trasmissione ovviamente il motocoltivatore l'avevo spento è uscito tutto l'olio della trasmissione perché togliendosi il cuscinetto che teneva il cardano in asse quindi che stava bello dritto e assorbiva anche tutti i colpi è uscito tutto l'olio perché quel cuscinetto la fa anche da guarnizione l'olio era veramente in pessimo stato era pieno di ferro infatti tutti gli ingranaggi tutti i dischi della frizione si sono distrutti la mia teoria è credo che anche sia quella che abbia fatto un po' tutti i danni oltre che tutti gli ingranaggi si sono mangiati ma anche un altro fattore che ha provocato tutti questi danni qua secondo me sono i dischi della frizione che si sono rotti in senso che non sono tenuti come le frizioni nuove dentro un carter di protezione quindi in caso di rottura non si va a distruggere tutto questi dischi qua sono andati dentro gli ingranaggi l'asse è bloccato tutto si sono tutti mangiati infatti l'olio era veramente pienissimo di ferro degli ingranaggi che si sono mangiati sarei molto curioso di aprirlo e farci un video ma ormai ho già venduto il motocoltivatore più che aver venduto il motocoltivatore ho venduto il motore perché è in ottimo stato e con questo diciamo che la carriera con il mio motocoltivatore il mio amatissimo motocoltivatore che mi ha permesso di fare questo orto di cominciare a fare questo orto qua mi ha abbandonato io con questo vi saluto vi dico soltanto che è già arrivato il nuovo mezzo il mio mezzo è arrivato ormai da una settimana non è in collaborazione con un'azienda infatti l'abbiamo comprato un gran bel mezzo che ho già cominciato a fare anche delle lavorazioni in campo quindi con questo vi saluto vi ricordo come sempre di iscrivervi attiva la campanellina ci vediamo tutti in un prossimo video e ciao a tutti iscriviti al canale